Grazie a tutti i numerosi in questa splendida location. Sindaco, però se facevo le marche due... Mi pavreste un po' grande. Non ce l'hai permesso forte. Allora, speriamo di farvi trascorrere una piacevole serata in compagnia della nostra musica. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnoleggiante, si intitola La Fiamma. Scritta dai compagni di donato... La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. La marcia che avete appena ascoltato, da un carattere spagnolo, si intitola La Fiamma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.